Bentorni a tutti ragazzi, io sono Fulz93 e qui c'è la Tuttle of the Steel, intanto io sto facendo tipo al Togu's Life, ma vabbè, lo stesso. Entriamo qui e andiamo a parlare con la Linsh, ragazzi. Ok. Ah, che stavano inquadrano nel cancello? Stai tranzolla, zi. Ho sentito tipo... Fermi tutti, un attimo. Ok, siccome siamo sentiti un rumorino come se ci fosse qualcosa, vabbè, comunque. Madonna, come cammina male. Cammina più normale, maledizione. Sei retentore e ti muovi come un deficiente. Vediamo un po' cosa ci dice. Eh. Allora, io sono benvenuti in questo caso. Allora, per me, mi chiedi. Allora, Laira! Allora, Alisha, adesso... Allora, ho sentito. Allora, la sua voz è sicura. Allora, questo è un'ottima cosa. Allora, Alisha? Allora, questo è ancora difficile. C'è un po' di spettacolo? E' un po' di più? Ciao Alicia, puoi sentire? Si! Puoi sentire, Laila! Non c'è ancora una nuova? Sì, è stato attraverso il nostro corpo. Non si può fare il tempo di non perdere la sensazione. Non posso fare il tempo. Sì, certo. Non posso fare il tempo di parlare sulle le cose sulle. Dai su ragazzi al noccio Il noccio Il noccio E' un'esplice che è un'esplice di cattaccia, e si può essere stati daţe o di persone con un'acqua, e per creare il amore di rinforzare la stagione di il rinforzamento e di emozione il rinforzamento. C'è l'esplice del cattaccia di cattaccia di cattaccia di cattaccia senza risposta, ma non è l'esplice di cattaccia di cattaccia di cattaccia di cattaccia di cattaccia. E' un problema di questo che non si può fare per l'acqua. Sì, non si può essere un pezzo che si può essere un pezzo di loro, ma non può essere un pezzo di loro. Ho capito. Laira voleva dire che sia un pezzo di loro, come un pezzo di loro. A presto, poter fare queste cose, possono essere un pezzo di loro. Sì, come va? Sì. Per un attimo ho sembrato che c'è passato in mezzo, comunque vabbè, tipo attraverso. Ehm... sto iniziando a capire, vediamo se c'è zecco. No, è un biglietto, no. Allora, no perché? Perché nel trailer da qualche parte io ho visto che c'è questa qua che regala, cioè che regala, che dà dei... hai consumato il pugnale reale però ragazzi, chi ha fatto la traduzione di sto gioco qui? Hai consumato. Ehm... Ehm... sto dicendo, si vede il... Leila che nel trailer dà degli origami a chiunque, praticamente. Cioè, no a chiunque, a sore, comunque l'ha dato uno. Stavo pensando potrebbero essere origami, occhio, io non... non lo so, potrebbero essere. Cioè è una buona probabilità che siano origami, ora che mi viene in mente. Penso che sia di qua, non ne sono sicuro. Sì, ok. Sì, ok. Sì, ok. Sì, ok. Sì, ok. Ti ricordo che ne hai un altro di Serafino? Doi, insomma, qua quanto è... Sì, ok. Sì, ok. Sì, ok. Sì, ok. Qui sarà qualche inghippo sicuramente, come al solito. Sì, ok. Sì. Sì, ok. Sì, ok. Sì, ok. Sì. Ok. , ok. 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 Sto premendo R Non lo so Ma se mi faccio così? No che non fa niente No ma Ah non posso fare niente Che faccio a fare Allora scusate un attimo però io devo capire un attimino eh Questo qua non c'entra niente Questo qui Così non c'entra niente Con R Ok allora fermi tutte Vabbè comunque ho fatto qualcosa che non ho idea di che cosa sia Ma vabbè Ragazzi così è troppo Troppo sgrava la cosa Vabbè comunque Ottimo insomma Andiamo avanti e Continuiamo la nostra cosa Ok quasi così si fanno le fiamme Ok no Non ero sicuro No perché Nel combattimento mi veniva scritta Cioè mi veniva sempre la croce direzionale con il fuoco Quindi ho pensato magari si userà anche in battaglia Quando si è in un'inizio premiere durante una combo di tre colpi Per eseguire un'esplosione aggressiva Ah No No Uno Due Ma non riesco a fare la combo di tre Oh Uno Due Tre Due Ah Uno Due Che non mi fa il terzo colpo Allora Mi devo un attimino capirci Uno Uno Due Tre Vabbè Un po' difficile da controllare Comunque Comunque Ragazzi Quante cose ci sono da imparare Sta diventando uno dei giochi più difficili che abbia mai giocato Ragazzi Troppa roba Troppa 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 Guarda se l'avrebbero fatto magari piuttosto che renderlo così complica Troppa roba Avrebbe preferito piuttosto che magari appunto avere un gioco così complicato Così diciamo molto Super completo di tanta roba Tante statistiche Tante Avrebbe preferito magari qualche Pelletto di grafica in più Lo so che magari sono ripetitivo Comunque sono sempre le stesse cose Ripeto Però Devo essere sincero un pochettino Preferirei appunto avere Appunto la cosa Come si chiama La grafica un pochettino più alta Ah ok Ci sono questi Queste interloquenze di Di mezzo Insomma Tidiamo giù anche quello Mentre che ci siamo ragazzi Tanto Lasciate fare che Assolutamente abbiamo fatto gli ultimi episodi Un pochettino Senza combattimento Insomma Ci sta un pochettino Di combattimento così Tanto E vabbè Comunque Adesso andremo a prendere questa Quest'acqua qua La cascata Adesso Ok Abbiamo preso la gelatina Ottimo Qui cosa c'è ragazzi Fermi tutti Questo qua è tipo Uh intanto ha cambiato La musica è cambiata ragazzi No ok Qui non c'entra la mazza Pico Posso chiedere qualcosa Sono fischi di vertico Ok Ok No No Morca miseria ragazzi Ok No ok E' per essere sicuri Possibile che qui non c'è niente Ragazzi Che solo questo villaggio è distrutto Mmm Non lo so La vedo difficile Comunque Vabbè Allora Facciamo così Ingressa la foresta E via E via E cerchiamo un pochettino di velocizzare Giriamo intorno ai Ai nemici Va che è meglio Non ci sta seguendo No ok No perché se ragazzi Prima Prima eravamo passati vicino a quel Quel lupo lì Di a me di prima Insomma un paio di video fa Uno o due video fa Che ci incorrevo Quindi Mi sono chiesto Non è che per caso ci segui Ma anche adesso Qui si passa Ok Cioè c'è un salvataggio lì Un salvataggio qui E poi però mi fai tipo 10.000 scritte Super complicate Ragazzi Non lo so Spendiamo questi qui Oh 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 Cos'è quel bagaglio lì Mmm Facciamo una bella cosa Proviamo a tirarlo giù Dai Adesso che è girato Adesso che è girato Non è vero che posso fare questo Che diamine è successo Intanto cos'è Cosa sta succedendo Fermi tutti Cosa sta succedendo ragazzi Mi ha caricato il salvataggio Il primo Uno dei primi Vabbè ragazzi A questo punto Lasciamo qui Il video E magari la chiudiamo qua Non so Era fortissimo quello lì Non bisogna andarci Non lo so È troppo forte Non so che cosa ci volesse Ma mi ha tirato giù In due colpi Non lo so Che diamine sia Vabbè Controlleremo Alla prossima Dai ragazzi Chiudo quel video E appunto Ci becchiamo Alla prossima ragazzi 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 Alla prossima ragazzi